Una buona serata a tutti voi, buon 27 settembre, serata di estrazione che si è appena conclusa, dodicesima del mese. Il 90 arriva a Palermo, non arriva a Bari, Cagliari, Napoli e Venezia, ma arriva a Palermo. Le condizioni per il 90 rimangono tali quali, come vi avevo detto ieri sera può succedere che può arrivare fuori pista e quindi non si può azzecare tutto e sempre. Il 90 comunque arriva a Palermo. Non c'è nessun 56 a Genova, quello lo consiglio ancora fino a sabato, quindi tre colpi di gioco questa sera, giovedì e sabato. Vedremo se questo Genova arriverà al 56. L'8 e l'80, Milano-Napoli e ancora allora questi ultimi due colpi, come vi avevo già detto nel video precedente, quindi tenteremo ancora gli ultimi due colpi. Guardate qua, radicale, laterale, laterale, laterale. 8, c'è il 9, 89, radicale, 13 laterale del 14, 19 laterale del 18, occhio. Quindi attenzione, previsione ancora apertissima a Milano-Napoli, ultimi due colpi, quindi come vi ho sempre detto sono pochissime le previsioni che vedo qua su YouTube. E anche poi su WhatsApp, unica previsione a ruote, quindi tenteremo ancora gli ultimi due colpi ancora per quella previsione che ho dato sul gruppo WhatsApp. Quindi due previsioni ancora allo scadere per i due colpi, quindi giovedì e sabato. Se poi esce tutto giovedì, sabato nuova previsione. Se non esce nulla, quindi giovedì, ancora sabato e poi vedremo. Ok, quindi il 9, scusate il 90 arriva su Palermo, 56 nazionale, guardate qua. Quindi tenteremo queste ultime carte giovedì e sabato. Per quanto riguarda quindi la classifica rimane tale quale Bari-Cagliari-Napoli e Venezia. Queste sono le quattro ruote che dovrebbero essere poi le quattro ruote top per la classifica integrale del 90. Mentre invece poi rimane sempre tale quale la previsione con l'80, vedete l'8,80 Milano-Napoli, ambo e ambetto. E poi ovviamente c'è quella su Milano dedicata con il 14, 15, 18. Stasera escono i laterali, 13, 19 e l'89 radicale dall'8, quindi dall'8. Qui attenzione, 89, quindi dovrebbe portare poi i radicali ancora, 8,80 eccetera eccetera eccetera. Noi ci risentiamo per le prossime news, ma quindi tutto avanti così com'è, senza nessuna variazione. Un abbracione da voi tutti, aloha!